Amici di Spazio Games, a quanto pare PS, che ormai è diventato semplicemente eFootball, non potrebbe essere l'unico gioco di calcio a cambiare definitivamente nome. Sono sempre di più infatti gli indizi che suggeriscono che anche FIFA fresco della pubblicazione di FIFA 22 potrebbe essere destinato a cambiare definitivamente il nome con cui si presenta sul mercato. Non ci sono ovviamente ancora dichiarazioni ufficiali perché Electronic Arts sta di fatto ancora esplorando l'idea, ma da un brevetto emerge quello che potrebbe essere un nuovo nome per la serie di FIFA. Come riportato dai colleghi del sito Videogames Chronicles, Electronic Arts avrebbe infatti scelto una prima idea di quello che potrebbe essere il nuovo nome di FIFA senza l'accordo con la licenza FIFA. In quel caso il gioco di calcio si chiamerebbe semplicemente EA Sports FC, praticamente FC proprio come nei nomi delle squadre di calcio. Il nome deriva da molteplici breveti depositati da EA in varie occasioni, i quali potrebbero essere collegati proprio al rebranding del franchise. Questi brevetti sono stati depositati tra l'1 e il 4 ottobre, quindi sono estremamente recenti e si collegano molto bene alle voci che vorrebbero Electronic Arts attualmente in trattativa con la FIFA per rinnovare la licenza utilizzata per il nome del gioco. Qualora non si arrivasse a questo rinnovo allora si opterebbe per uno di questi nomi che stanno venendo registrati dove il più quotato sembrerebbe proprio EA Sports FC. Vedremo tuttavia se comunque alla fine EA riuscirà a rinnovare la sua licenza con FIFA e quindi FIFA continuerà semplicemente a chiamarsi FIFA. Se così non fosse prepariamoci a un nuovo cambio di nome per i videogiochi di calcio. Come sempre noi di Spazio Games saremo in prima fila per raccontarvi tutte le novità, quindi non perdeteci di vista. Intanto io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania e vi do appuntamento presto sulle pagine del nostro canale.